Ciao a tutti! Allora, eccomi nel mio quinto appartamento in Smart Working Space. Questo è un piccolo monolocale, molto molto piccolo. Vedete che ha una cucina, un bagno e poi si va sopra e vi faccio vedere dopo. Tra l'altro, un anno e passa fa, credo anche di più, no, molto tempo fa, ho dormito in questo appartamento. E niente, allora, andiamo un attimo a vedere, a condividere quali sono le cose importanti per lo smart worker in the use. No, io vengo qui, non ci dormo, faccio vedere la vista, vediamo se si vede. Ecco, vabbè, più o meno. Non ci dormo e quindi mi interessano alcune cose piuttosto che altre. Questa è un po' la mia vista mentre lavoro, non è male. Allora, prima cosa, ho subito chiesto al ragazzo se c'erano stati dei clienti negli ultimi giorni per un discorso di disinfezione. Mi fa, guarda tranquillo, è quattro giorni che non c'è nessuno. Perfetto, quattro giorni e fa, è disinfettato. Io comunque non è che mi fido al massimo perché sono in casa e non voglio avere pensieri. Quindi cosa ho fatto? Ho deciso di dare una passatina comunque. E dando una passatina mi sono reso conto che in realtà quel cavolo che era disinfettato perché ho trovato polvere in, tipo sulla tazza del bagno, della toilette, e ho trovato polvere in giro vuol dire che non hanno disinfestato bene, avranno pulito come al solito, ho tirato via un po' di spray, eccetera. Questo che ci fa capire, andiamo su intanto così, andiamo anche, ci fa capire che il problema della disinfezione è forte perché sì, mi devo fidare, non basta che tu l'abbia fatto. Quindi va trovato un sistema per garantire e certificare questa cosa. Qui c'è un piccolo angolino Buddha di riflessione e qui c'è una piccola terrazza. Oggi vi faccio vedere Soffia con la montagna degli dei. No, non siamo a Bali, qui niente montagna degli dei. Qui magari verrò a lavorare ogni tanto, c'è un tavolino. A me, per me è molto importante la luce e lo spazio del lavoro, purtroppo le sedie qua sono abbastanza scomode e vedremo come si sta. Però la sedia in realtà non è che la sento molto come problematica, la luce invece sì, la luce sì, scusate se è scomodo. Oggi sono comodo, c'è una cosa che è uno scomodo, è piccolino a tuo posto. E quindi, allora, disinfezione è fondamentale, servono soluzioni di garanzia, devo entrare e sapere che sono tranquillo, ok? Questo è un problema che va al di là dello smart working space, è un problema generale in tutta la struttura. Allora, ho collegato il computer e ho trovato la presa lì, per fortuna, vediamo se si vede, avevo preso la prolunga del Mac, che altrimenti avrei fatto fatica. Quindi prolunga e vicina agli spazi di lavori, fondamentale, ok? Altra cosa, check-in. Questo è un self-check-in, per fortuna, perché io, il quinto appartamento che cambio, mi siedo, se no mi faccio il mio mal di testa, e se ogni volta avessi dovuto fare un check-in con la persona, è scomodo. Quindi c'era giù un box, come tutti gli altri appartamenti che ha lui, e il codice era sbagliato, mi ha dato un sms, un whatsapp, e mi ha detto, guarda, ho sbagliato, è un altro codice, e sono entrato da solo. Quindi, fondamentale, a mio avviso, il self-check-in. Poi, io questi li sto sempre affittando lunedì e venerdì, li pago solo lunedì e venerdì, e praticamente sempre nel weekend lui ha riaffittato, quindi considerate anche questa cosa, in particolare in fase un po' più avanzata, appartamenti che affittano in certi posti, spesso in città, affittano bene weekend e non infrasettimanale, l'infrasettimanale potrebbe essere dedicato, invece che essere vuoto, a uno smart worker. Su cinque giorni riesci a spalmare le pulizie, se sono 50 euro, 15 euro in più al giorno. Ok, cos'altro? Vabbè, vado proprio nel dettaglio nella mia vita di smart working spacer, non ho inventato un nome, e quindi mi sono portato via, io non cucino, mia moglie prepara delle cose, qui c'è una cosa, una specie di piadina turca che mi ha fatto, me la scalderò. Ho subito pulito tutto, anche qua, torniamo all'aspetto pulizie. Le posate che userò, io le voglio avere pulite, perché non voglio avere problemi. A parte che questo appartamento, ho già capito, era comunque poco pulito, insomma, lo standard è abbastanza basso, e quindi, specialmente le posate, uno dice, le voglio pulire. Attenzione, la cosa si fa spesso anche, si faceva spesso anche prima del covid, perché gli standard di pulizia spesso del vacation rental sono talmente bassi che le cose che mi metto in bocca, le posate, io me le devo lavarlo stesso, perché non mi fido, non mi fido. Quanti ripuliscono tutte le posate ogni volta? Pochissimi. Quindi quante volte, quanti di noi, si fanno una bella pulizia iniziale? A me capita spesso, devo averlo già detto in qualche altro video. Quindi, approfittiamo del covid, speriamo che il covid ci obblighi a pulire bene una volta per tutte, perché non se ne può più entrare in delle case e dover impazzire con tutte queste cose. E anche se voi pulite bene, se io non ho la garanzia che sia pulito bene, comunque non mi sento a mio agio, ok? Poi, in particolare, se trovo un po' di polvere o delle briciole in giro, già ho capito che, insomma, mi conviene dare una ripulita completa a tutto quello che userò. Attenzione, sì, magari, appare adesso che io sia uno di quelli matti per le pulizie. No, in realtà no. Però ci sono, ed è una buona parte. È fondamentale pulire bene, non so proprio come spiegarlo meglio, insomma, è un problema che va risolto. E qui facciamo un salto importante nei confronti degli alberghi, perché loro l'hanno più o meno risolto, questo problema, da anni. E via. Cos'altro posso dire? Allora, sì, avevo dimenticato di pulire qua le... di pulire le... di disinfettare questi. E... Sto prendendo le parole adesso. Disinfettare le prese. Se accende la luce, cavolo, si chiama interruttore. e quindi ho dovuto rifare un giro anche su quello. Basta, quindi ecco, per lavorare. Io, e qua è una mia cosa personale, ho bisogno di uno spazio con tanta luce. Ci sono persone che preferiscono... lavorano meglio al buio. Le sedie sono abbastanza scomode, anche queste. Vediamo quanto resisto. Non mi butterò sul letto, perché non hanno schienale. Quindi il letto non lo tocco. Sembra fatto male, perché sono dovuto salirci sopra per sistemare... per attaccare la presa. Quindi la luce c'è. L'aria condizionata servirà perché comincia a far caldo. C'è. La cucina c'è. Io dovrei essere a posto. Non mi viene in mente altro. Quindi, ricapitolando, self-check-in. Pulizie garantite. Luce per lavorare. Sedie comode. Basta. Lunedì, venerdì. Affitto del lunedì, venerdì. Consideratelo. E il resto lo impareremo strada facendo. Bye. Ciao.